Musica Ragazzi 3000 mi piace Mi raccomando spolliciate su Clash of Flans Vedo che l'interessamento si sta un po' abbassando Quindi fatemi sapere se volete Clash of Flans sul canale voi che seguite Clash of Flans Per tutti quelli di Clash Royale ragazzi Domani alle ore 15 Ci eravamo lasciati esattamente qui ragazzi Per l'appunto In questa situazione Allora ho da tirare su un po' di cose Perché è un giorno che non entro nel villaggio E intanto mi ho scritto E' piazza ma se non lo porti Se non ci giochi Non è che devi portarlo Ho visitato il tuo villaggio ed è inattivo Ragazzi non abbiamo capito un cazzo allora Io non posso giocare 18 ore al giorno a Clash of Flans Cioè mi sembra abbastanza plateale Perché è estate anche per me O degli amici o una ragazza O altro da fare Soprattutto intanto accettiamo la gente nel clan Perché qualcuno mi sa che è uscito Quindi non cominciamo con E' piazza L'ho visitato 30 secondi fa e c'erano degli ostacoli Sti cazzi proprio enormi come quelli di Rocco Sti cazzoni giganti proprio Quindi mi raccomando Non voglio più sentire cose così Perché io blocco autent Perché non ho voglia di perdere tempo Semplicemente Ripartiamo alla grande ragazzi Eravamo praticamente sprovvissi di risorse Come state vedendo Quindi volevo ripartire esattamente da lì Senza giocare Senza far altro Perché altrimenti Come l'altra volta Avevo fatto un pezzo di muro in più E non mi piaceva l'idea di non farvi vedere Tutto quello che faccio Almeno qui in questo robot 2 max Siamo messi molto molto bene Come mura siamo quasi alla fine Per il livello 10 Vedremo poi se portarli o meno Perché insomma Vediamo intanto quante mura ho Lascia stare Lascia stare quella al 7 Lascia stare 172 mura Livello 9 Che non è male Ne mancano 77 Quindi 77 milioni Di risorse generali Tra oro e elisir Per maxare le mura al 9 Come di consueto ragazzi Attacco del milione Milione di oro E milione di elisir Teoricamente Sperando che siano Anche se devo dire che lui Ha un po' di elisir Un po' di oro Circa 180 mila Interni Quindi non so Quanto rubere Non ruberemo mai tutto Perché dovrebbe avere Circa 360 400 mila Risorse totali Solo nei depositi Però insomma Faremo una buona scorta Semplicemente con i goblin Perché alla fine potrei puntare Al 50% Perché ragazzi Volevo cominciare un po' A salire verso cristallo 3 Cristallo 2 E stare un po' lì Perché per il nero L'ho già detto Vediamo qui quanto c'è Anche se non penso Ci sia un cazzo Infatti ci sono Mille Mille di oro Abbiamo fatto tanto Mille di Un milione di ore Un milione di desider Lo abbiamo portato a casa Lasciamo stare al 50% Perché altrimenti Poi ci metto troppo tempo Per rifare L'altro attacco E mi hanno donato Un bel draghetto Che non è male Intanto Tutti mi salutano Ciao ragazzi del clan Aspettate un attimo Che scrivo Così almeno Perché tante volte Mi dicono Piazzi Magari ti saluto E non rispondi Però quando gioco Generalmente registro Non farmo mai Off camera Ora volevo provare A vedere qualcosa In live Nel frattempo Chiaccherevamo un attimo Perché ho un po' Di cose da dirvi Innanzitutto Vi dico che Se non siete iscritti Al canale Iscrivetevi Controllate Perché Perché come sempre YouTube Ha tirato via alcuni iscritti Magari siete Siete fra questi Per cui metto Piazzi Io mi sono ritrovato Di iscritto Al tuo canale Eppure sono iscritto Cioè pure ero iscritto Questa cosa Io lo sapevo Che sarebbe successa Infatti vi dico sempre Controllate 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 Proprio per quello Perché so che Magari non è stato YouTube Mi ha calcolato Come iscritti inattivi E in realtà Voi non siete iscritti inattivi Quindi Ovviamente Ora che sono in live Non troverò un cazzo Perché andate Vincolo Piazza Voglio vedere Quanti skip fai Per trovare dei villaggi Come i tuoi Perché io tante volte Non trovo un cazzo Mi sento detto Moltissime volte questo E io non devo Skipare tanto Cioè ho capito Mi capita a volte Di skipare anche Un minuto Un minuto e mezzo Che comunque Non sono tanti Però da far vedere In video Sono tanti Un minuto e mezzo Dio che c'è Due coglioni enormi Che unite Sti gran cazzo Di primo Facciamo una bella visione Comunque È normale Che un minuto e mezzo In un video Sia tanto Un minuto e mezzo Nella vita propria Non è niente Cioè si può stare A skipare un minuto e mezzo Il fatto è che Non sto Questo qui Non è neanche male Non li ha tutti Esterni Chiaramente Però mi sembra Non lo so Potremmo accontentarci Però mi sembra Proprio un pochino Potrei provare lo stesso E vediamo quanto ha In caso ragazzi Vado un po' di sfondamento E provo ad entrare Ovviamente ragazzi Non ho il re Perché è in app Tra due giorni Tre giorni Due giorni Dovrebbe essere carico Il livello 14 Che era un po' Che non l'ho paura La regina è già al 15 E nel frattempo Devo farmare un po' di nero Per averlo già disponibile Però in queste leghe Non è semplicissimo Farmare nero Perché Non ce n'è tanto Semplicemente Sono pochi Th9 Sono pochi Th9 Tutti i th più piccoli Ora direi di andare A sfondare Proprio in modo Violento Tutto Ok Mettiamo la regina E la regina La proteggiamo Con tutti gli arcieri Tutti i barbari Messi in gruppo Ma più niente In modo ignorante Abbiamo le truppe più forti Rispetto al suo villaggio Quindi possiamo attaccare In modo ignorante Ovvero tutte le truppe In un punto Cosa che non va fatta Però sti cazzi Cioè lo so bene Che non va fatta Ma a me non importa niente Perché avendo le truppe E il livello maxato Per il mio municipio Lui c'è un livello Un municipio di livello 9 Giusto sulla carta Non è un problema Draghetto che parte Ma purtroppo la regina Deve andare A verso il deposito di lisir Perché io l'ho lanciato Ho lanciato tutto sto partito Per arrivare all'elisir Non perché mi piaceva Sprecare il tempo Purtroppo hanno preso di mira La mia regina Però secondo me Si può fare tanta roba Abbiamo rubato molta roba Ragazzi Perché il drago Ci ha aiutato molto Se siamo fortunati Ci portiamo al municipio Però no Non penso Faremo una stella e basta Probabilmente faremo una stella Se va No non va neanche E' partito l'arco X Ciao E' partito l'arco X Fu gussato E' il municipio Ma niente da fare Niente da fare Beh abbiamo rubato un po' 600 di nero Non è tanto Però vabbè A meno ragazzi Avete visto un attacco in live Quanti skip ho fatto A meno vi fate circa un'idea Attacco dei 2 milioni di oro Di lisir no Però ci andiamo vicino Mi accontento di questo ragazzi Perché adesso è un po' che non trovo E piuttosto che stare Che far finire la gemmatura Delle caserme Preferisco Prendere qualcosina Che non sia sempre 400.000 400.000 Però comunque lui ha tanta roba Facciamo fuori Questi qui esterni L'animazione La torre dello stregone Che hanno messo dopo L'update famoso Mi fa davvero cagare L'ho già detto Ma ogni volta che la vedo Devo dirlo Proprio per una cosa mia Mi sento in dovere di dirlo Quindi ragazzi Provo a rubare Quello che posso Siamo arrivati a 2 milioni Che è la cosa importante Con il lisir Siamo ancora abbastanza distanti Potremmo arrivare A 1.8.000 Che comunque Non è male Però magari col prossimo Arriveremo a 2.000.000 Di lisir anche Ok 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 Potremmo provare A fare il 50 Perché ragazzi Non voglio perdere Troppe coppe Perché altrimenti Dopo finisce Che io questa Cioè Questa pseudo scalata Mentre farm Non la faccio più Quando posso Sarebbe opportuno Riuscire ad arrivare Al 50% Anche se tirato Non è importante Cioè non mi interessa andare Di sfondamento Sui villaggi Volevo proprio fare una cosa Rubiamo le risorse Se avanza qualcosa Andiamo a fare il 50 Cosa che probabilmente Non riusciremo a fare Perché ho ancora 24 goblin Il clan La regina Soprattutto Che è quella Che farà più danno I goblin Purtroppo Vanno dentro Il castello del clan Quindi niente da fare Devo lanciare la regina qua E vedere un attimino Come si mette la situazione Non dovrei riuscire a farcela Teoricamente Potrei anche lanciare il clan Volendo Tanto alla fine Me lo ridonano In caso Però forse la regina Ce la fa da sola Vediamo 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 47 Volevo infuriarle E ritirarmi Ma non ce la faccio 48 50 Dimmi che ce l'ho fatta Dimmi che sono riuscito Dimmi che sono riuscito Vabbè Tesoreria Non ce l'ho fatta Vabbè sti cazzi Ci prendiamo questi 140.000 E andiamo praticamente Anche a 2 milioni Molto bene ragazzi Molto molto 2 milioni 2 milioni Ora procediamo A farmare Perché dobbiamo fare Almeno 6 8 pezzi di muro In questo video Per portarci un po' avanti Con il settore Qui di destra Lui ragazzi È molto interessante E inoltre L'attacco Di 3 milioni 3 milioni Lui ha molte risorse Però non ha Le miniere sviluppate Al massimo E questo è un peccato Altrimenti Lui ci dava 600.000 Buoni Perché sono davvero Strabordanti Però non tutto È maxato Fino al massimo Quindi Disponibili Sono molto Molto di meno Vediamo se riusciamo A rubare tutto Intanto Comunque vedo L'elisire Loro che sono scesi A picco Infatti siamo A 3 milioni 100.000 Di oro E con l'elisire Dovremmo avvicinarci Molto molto Ai 3 milioni Cosa positivissima Andiamo con i goblin Qua per fare pulizia Ok 3 milioni 200.000 Di oro Praticamente Rubando anche Quest'ultima miniera Con l'elisire Ci andiamo Molto molto vicini Quindi non è male L'unica cosa è che Non ho più arcieri Quindi devo giocarmeli Benissimo E i goblin Sono addirittura entrati Quindi ci penseranno loro Goblin magici Sono addirittura entrati A spaccare il muro A rubare tutto 32% Qua purtroppo Non arriverò A fare il 50% Però volevo prendermi pure Quell'estrattore Là in fondo Perché è tanta roba Ci sono 100.000 Di l'elisire E mi sembrerebbe Un bel peccatone Lasciarli qui Quindi proviamo A portarci lì a casa Andrò a riuscire a farcelo Comunque infuriando Anche la regina Non mi sembra così complicato Va a mirare Ok Dobbiamo infuriarla Nel momento esatto Ci portiamo a casa Esatto Qui l'estrattore 40% Non arriviamo mai Al 50% Ci portiamo un po' di risorse 3.200.000 2% E praticamente 3.000.000 Di l'elisire Molto molto bene Ragazzi Stiamo farmando abbastanza bene Non si trova tantissimo Però dai Non possiamo neanche lamentarci Tutto sommato Stiamo farmando abbastanza Ragazzi Ultimo attacco Di questo video Piazza Perché lo fai? Per arrivare a 3.000.000 Di l'elisire E poter far quindi 6 pezzi di muro Che non è male In un'ora 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 e mezza Non so da quante Che sto farmando Lo vedo in base Dalle caserme Quindi comunque Non è neanche male 6 pezzi di muro L'ho voluto fare Proprio perché Comunque con l'oro Non arrivo a 4.000.000 Però con l'elisire Arrivo a 3 Quindi tutto sommato Non è malissimo Come cosa Possiamo provare A rubarci tutto quello Che possiamo E fare questi pezzi di muro Tranquillamente Ok Abbiamo rubato un bel po' di oro L'elisire Ancora ce n'è un po' L'importante è Avere sopperti 3.000.000 Quindi io sono abbastanza soddisfatto Così Non mi lamento Nero Purtroppo Sempre poco Però Vabbè In queste leghe Non è che ce ne siano tantissimi Cioè Con i depositi di nero Belli belli pieni Quindi non posso neanche Lamentarmi troppo Eh ragazzi Bisogna vedere Se magari Nella prossima video Si riesce a farmare di più E magari fare un video Da 8.000.000 8.000.000 Però È un po' pesante da fare Lo so Però l'ho già fatto 16.000 di risorse Sono tanti Però quando riesco Lo faccio Ok Abbiamo rubato Tutto quello che possiamo Non facciamo il 50 Neanche a morire Quindi purtroppo Perderemo 20 coppe 20 coppe perse Ma non è un problema Perché Tra un po' Mi metto proprio solo A scalare un po' Arrivo su a A che ne so A master O a cristallo 2 Cristallo 1 E sto tranquillo Anche se forse Teoricamente Con la regina Si può arrivare A fare il 50 44 45 Non ce la faccio No 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 Non ce la faccio Vabbè Ci abbiamo provato Dai 47 47 Ci abbiamo provato Dai ma non è che Così importante alla fine Basta Basta Abbiamo solo la terremoto Quindi noi ce ne andiamo A casuccia Ci portiamo Questi 500 E più 1000 risorse E cominciamo ragazzi A spendere Questo oro E questo risier Nei pezzi di muro In questo quadrante Per finirli Ragazzi Mentre spendo l'oro Io vi dico che Da piazza è tutto Perché ora il video Ovviamente finirà Ci vediamo come sempre Domani con Clash Royale È uscito l'aggiornamento Ragazzi Quindi in caso Mi raccomando Parleremo un po' di quello Ma più che altro Ho dei video da farvi vedere Interessanti Ragazzi Tutto finito Da piazza è tutto Un saluto E ciao